inizia con la domenica delle palme la settimana suprema della storia e della fede e come si dice il cristianesimo è nato da questi giorni santi vero padre ernesto ben trovato ben ritrovati a voi buona pasqua la settimana sì hai ragione diciamo che la pasqua comanda tutto l'anno liturgico e siamo ormai dopo cinque domeniche di quaresima siamo all'entrata di gesù a gerusalemme ma vorrei ricordare alle nostre amiche e nostri amici che quando abbiamo lavorato sulla prima settimana abbiamo meditato su quel testo del mangelo proprio nel capitolo 4 luca al versetto 13 aveva detto questa aveva fatto questa annotazione dopo aver esaurito ogni specie di tentazione il diavolo si allontanò da gesù per ritornare al tempo fissato e noi commentammo ricordate sei domeniche fa quando iniziamo il nostro cammino qual è questo tempo fissato è l'ora della passione l'ora della passione nel momento in cui di nuovo il diavolo ritorna per come si come si dice l'ultima tentazione gesù prova angoscia gesù deve fare una scelta confermare una scelta radicale che ha fatto in tutta la sua vita paolo parla nella lettere romani della fede di gesù cristo e ma la fede di gesù cristo che cosa indica che gesù ha avuto fede fede nel senso di fiducia si gesù si è fidato continuamente al padre lui è il figlio di dio ed è fedele al padre e quella fede ha sempre nutrito il suo cuore anzi dice paolo nel capitolo 3 di romani è proprio quella fede di gesù il fondamento della nostra relazione col padre quindi gesù oggi è chiamato ad attraversare la passione la morte crudele della croce sceglie di arrivare alla luce attraverso la croce percorre strade davvero che sono così diverse paolo ha detto nella prima corinzi la parola della croce e quindi deve ancora una volta combattere contro colui che vuole separarlo dal padre gesù vuole scegliere la via del successo del miracolismo del potere no assolutamente l'ha già fatto in quella scena delle tentazioni la prima domenica di quaresima e la pagina di oggi nel giorno delle palme ci presenta tutta la passione secondo luca il dramma finale della vita di gesù e non è solo per lui una grande prova la giornata delle palme è anche la giornata della prova per la chiesa per ognuno di noi quale strada abbiamo scelto in questa quaresima abbiamo scelto la via del successo del cargirismo del miracolismo del potere di schiacciare gli altri o abbiamo costruito con l'aiuto di dio questa somiglianza con noi questo stile di vita attraverso l'ascolto della parola per essere testimoni nella vita della salvezza che gesù opera sulla croce e la cena che gesù vive nel cenacolo anticipa la passione eucaristia è la partecipazione a questa passione morte e resurrezione il pane spezzato il vino versato che continuano ancora oggi a nutrirci il nostro cammino è illuminato da questa duplice menza e ci dà la forza per arrivare al compimento non dimentichiamo però che uno dei discepoli ha tradito ha tradito nel passato tradisce oggi potremmo tradirlo ancora noi potremmo consegnare gesù rompendo quell'alleanza stipulata nel suo sacco ecco luca sottolinea con molta forza che mentre gesù è a tavola serve i suoi sta in mezzo a loro e questi invece litigano per sapere chi poteva essere tra loro il più grande è la tentazione che c'è ancora dentro di noi dentro la chiesa invece di usare il servizio noi parliamo di ruolo di carriera a corso al potere siamo anche noi traditore forse come pietro lo tradiamo per tre volte annullando quella fedeltà al signore della vita la vita cristiana è una vita buona bella beata è una vita fatta di servizio mai schiacciare l'altro chi schiaccia l'altro è un debole è vittima delle sue passioni non ha vinto nel deserto di questa quaresima la lotta contro se stesse giusì invece per tutta la passione ma per tutta la vita è stato fedele al padre e sul monte degli olivi durante questa agonia agone agonia significa proprio lotta durante questa lotta spirituale ordina anche noi ai discepoli pregate per non entrare in tentazione e lui stesso ci dà l'esempio pregando fino a sudare sangue luca ci ricorda questo particolare prega fino a sudare sangue vi si rompono proprio i capillari e su da sangue entra nella passione nella morte senza mai opporre resistenza alla violenza ha detto pure a noi se non amate i vostri nemici non pregate per loro che cosa fate di di straordinario noi dobbiamo resistere e spezzare l'onda della violenza dobbiamo vivere con mitezza e la mitezza è la forza sulla forza il dominio sul proprio dominio con quella lucidità che viene dalla fedeltà che viene dalla fedeltà alla verità perché la verità è luce è lampa dei nostri passi è cristo stesso addirittura gesù in luca arriva a chiedere al padre di perdonare i suoi crucifissori fino a fare suo proprio quello che il salmo 31 al versetto 6 dice padre nelle tue mani consegno il mio respiro alla mia ruota e come se non bastasse non ascolta l'invito a salvarsi l'ultima tentazione scendi dalla croce rinnega tutto quello che è fatto anzi gesù non muoverò un dito su quella croce resta fedele al progetto del padre porta fino in fondo la volontà del padre muore in obbedienza al progetto salvifico di dio si abbandona nella morte perché la attraversa per vincerle nella morte del figlio c'è la vita degli uomini la morte è vinta lo canteremo a pasqua proprio perché gesù si abbandona la attraversa la sconfigge apre per noi finalmente una porta che ci può veramente indirizzare al padre solo gesù è risorto solo gesù potrà vincere questa realtà terribile del peccato della morte di questa lebra che ognuno di noi si porta dentro allora oggi dobbiamo ascoltare questa pagina questa lunga pagina la pagina più lunga dell'anno quella del giorno delle palme da ascoltare in silenzio in riflessione per riflessione mettere sulla nostra esistenza cristiana la passione la morte di cristo devono registrare anche la nostra vita e devono farci venire fuori le domande fondamentali io come credente come cristiano sono al servizio della chiesa o voglio servirmi degli altri è l'amore di dio che mi spinge o voglio dominare sugli altri sto veramente camminando sulla via tracciata da gesù siamo la chiesa di cui parla il grande padre della chiesa sant'ambrogio veramente come la luna e la chiesa diceva lui rifugio non della propria luce ma di quella di cristo tra il suo splendore dal sole di giustizia così che può dire non sono più io che vivo ma cristo vive in me preso questa citazione di ambrogio anche dalla luma in genzo dal concilio ecco la missione della chiesa che papa francesco questo uomo illuminato che continua a dirci è la vocazione nostra tutti siamo chiamati come cristiani a essere come i pastori che abbiamo visto sulla spianata di betteremme o come i magi di cui annuncia matteo annunciare quella grande luce che è apparsa in mezzo a noi ma chi è questa luce? è la stessa misericordia di dio che ha un nome cristo signore il messia il figlio di dio nostro salvatore il curios e curios in greco è esattamente la dicitura che in ebraico è adonai cioè il nome di dio gesù è dio è il figlio di dio è la misericordia del padre che vive in mezzo a noi e aiuta la chiesa veramente a vivere nella misericordia e a trasmettere questa misericordia il progetto di dio è umanizzarci giorno di passione ma direi passione d'amore quindi non accentuiamo il dolorismo ma veramente sottolineiamo l'amore fulgito che dio ci ha dato nel figlio suo gesù questo quindi possiamo dire padre ernesto come diceva carlo maria martini l'essenza del cristianesimo e la contemplazione del volto del dio crocifisso certamente perché la croce non è quello che pensiamo noi l'abbiamo predicata sempre come dolorismo la croce è la rivelazione più alta luca è discepolo di di paolo mi dovrebbe leggere prima corinzi da 1 18 in poi quando paolo dice la parola della croce la croce diventa l'epifania la rivelazione suprema dell'amore di dio fino a che punto ci ha amato il signore ecco da attraversare addirittura la morte per far vivere la vita per mezzo di quella croce quindi quella croce è un atto d'amore è un parto è un'apertura la croce è una logica che non significa dolorismo ma è la logica di chi vince perdendo di chi non vuole essere primo ma ultimo di chi non vuole prevalere è la logica vera del cristiano è un sovvertimento un capovolgimento del nostro modo di pensare nel mondo tutti vogliono prevalere vogliono scavalcare invece Gesù ci insegna a vivere sotto traccia una fedelità continua una bellezza della vita dove le cose più semplici ci parlano di questo amore beati gli uomini che già oggi vivono così perché pur senza saperlo stanno già assaporando il paradiso il regno di dio è già in mezzo a noi è la logica di dio che va imitata grazie padre ernesto anche per oggi grazie a voi è tanta pace oggi in questo giorno in cui Gesù nostra pace dirà paolo nella lettera romana Gesù è nostra pace quindi la pace ha un nome è Gesù Cristo che possa veramente questa pace scendere sul mondo intero e nel cuore degli uomini io approfitto per ricordare i nostri amici che ci seguono sempre fedelissimi che sarai con noi anche nel giorno del venerdì santo e nel sabato santo alle 17.45 con una tua profonda riflessione io ringrazio anche voi e oggi facciamo un bell'augurio a tutti quanti compreso a voi e a tutti i tecnici quello di Serafino di Sarof trova la pace dentro di te e una moltitudine di uomini troverà pace attraverso di te grazie grazie di cuore padre ernesto a venerdì prossimo buona Pasqua alla settimana buone palme a te shalom shalom uh 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 Grazie a tutti.